Imbarcazioni, componentistica, motoristica, accessori, abbigliamento e arredamento nautico, servizi per la nautica. Torna puntuale il Nautic Sud che quest'anno arriva, alla 49esima edizione. Il Salone della Nautica da Di Porto è stato presentato stamane nella Sala Italia della Mostra d'Oltremare, il quartiere fieristico di Fuorigrotta che dall'11 al 19 febbraio attirerà buyer, amanti della nautica e semplici appassionati. Un settore, quello delle barche, che anche nel 2023 fa segnare dati in positivo, come spiega il presidente di Affina, Gennaro Amato. La nautica ha avuto un crollo della parete in modo verticale per problemi dati all'economia mondiale, non all'economia nazionale. Quindi credo che oggi la nautica ha questo numero di aumento delle vendite di imbarcazione noi però purtroppo abbiamo una ferma di quello che è praticamente il collocare le vendite di queste imbarcazioni perché non abbiamo ormeggi. Al centro del dibattito a cui ha preso parte anche il sindaco di Napoli Manfredi e i vertici di Mostra d'Oltremare, Minopoli e Caputo, la necessità di costruire nuove marine e posti di barca per attirare un turismo di qualità. Così il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. Ne parlerò col sindaco, siamo a disposizione per istituire attraverso un sostegno ma anche come ufficio e come personale la gestione demaniale che assegna ai comuni, la legge assegna ai comuni attraverso l'autorità portuale. Fare due o tre porti turistici a Napoli significa elevare anche la presenza del livello turistico. Accanto alla Kermesse dedicata alle barche al mare, la banca di credito cooperativo, il presidente Manzo è pronto a sostenere il progetto per la riqualificazione del settore diportistico e non solo nell'area metropolitana di Napoli. Ora dobbiamo investire sulle marine, il presidente della Finanto Amato, Gennaro Amato, sta lavorando fortemente, il comune e il sindaco Manfredi con tutta la giunta hanno naturalmente abbracciato questa progettualità, la banca con la sua struttura del gruppo bancario Icrea di finanza straordinaria, sicuramente come ha fatto per altre marine tipo Procida, sicuramente starà vicino a questo grande progetto.